Marcello, cosa fa? Preoccupati un pochino? Non preoccupati, sappiamo che è un momento particolare intanto perché è quasi la fine di giugno d'andata, sono due partite prima della sosta quindi è molto importante far bene. Poi perché comunque arriviamo da un periodo che sotto il profilo dei punti è poco fortunato quindi sappiamo l'importanza di quest'ultima partita prima della fine in casa e ci teniamo molto a far bene. Qualcosa, lo insegna la storia dei campionati, può essersi inceppato per il momento? I campionati sono lunghi, difficili, ovviamente nelle ultime prestazioni magari possiamo soprattutto due partite fuori casa essere sembrati meno brillanti perché poi penso che invece col crotone la prestazione sia stata fatta e secondo me l'aspetto negativo è proprio che magari non siamo riusciti a portare qualche pareggio a casa che forse nelle due trasferte meritavamo e quindi la sconfitta lascia sempre qualche strascico negativo però c'è anche la consapevolezza che la squadra non è allo sbando, ha sempre perso per un gol, è ordinata magari in trasferta ultimamente stiamo proponendo poco a livello offensivo però sono momenti, noi dobbiamo stare sereni con la consapevolezza sicuramente che si deve far meglio Serenina con un mezzo obbligo di vincere contro Cesena? Beh sì, in casa è ovvio che non c'è l'obbligo ma dove si costruiscono secondo me le salvezze può fare il moramiche quindi c'è bisogno di ritornare alla vittoria, giochiamo contro una squadra che ha dei valori però penso che ce la possiamo giocare bellissimo come minimo alla pari quindi sicuramente andremo alla ricerca di un risultato pieno e poi la partita vedrà Marciallo Cesena come lo dobbiamo considerare? Un avversario ancora in crisi, un avversario in ripresa, quali difficoltà? Anche il Cesena era tantissimo che non vinceva, ora ha vinto l'ultima parita in casa è una posizione di classifica importante quindi come sempre in B è la continuità che fa la differenza anche magari non vince, non fare punti, serve sempre ora ha trovato la vittoria in casa, avrà sicuramente un umore migliore rispetto all'ultimo mese però Cesena ha fatto una squadra di giocatori importanti, di valore che però penso che sia all'altezza nostra quindi come ho detto prima siamo sereni, cerchiamo di preparare al meglio e sappiamo che abbiamo tutte le carte regola per portare a casa un risultato importante Grazie